Un intervento importante per questo quartiere, un quartiere di periferia che tante volte è stato attenzionato ma nonostante tutto ancora in certe parti del quartiere mancano i servizi essenziali, in questo caso i marciapiedi in altre parti del quartiere mancano anche le fogne, quindi insomma la situazione la conosciamo per cui cerchiamo di attenzionare tutti nella stessa maniera. Abbiamo fatto degli incontri, ci sono dei lavori che abbiamo fatto sul cavalcavia per mettere in sicurezza il passaggio pedonale e tante sono le richieste di tutti i quartieri, Settefarino come Cantina Sociale, come Margi, come Machitella stesso e Marchitello, quindi tutti hanno esigenze che stiamo cercando di attenzionare e nei prossimi mesi partiranno delle gare di manutenzione stradale molto importanti. Le lungaggini burocratiche sono evidenti, la gara è stata fatta a settembre del 2015, siamo sotto l'amministrazione messinese e siamo a maggio del 2016, quindi dopo otto mesi riusciamo finalmente a dare risposta al quartiere. Le lentezze a volte, io penso che sia un discorso proprio insito nel comune, non dico nel comune di Gela, ma in realtà in tutta l'amministrazione italiana, a volte manca un documento alla ditta o manca l'ufficio contratti che magari perde un mese di tempo piuttosto che due mesi e quindi è un discorso proprio di burocrazia, proprio insita nel sistema italiano. Grazie